Tra le pieghe della pietra, in documenti antichi, la storia giace nascosta. Questo volume cerca di rientire un volto storiografico su un'antica famiglia feudale che tra il 600 e il 700 ha amministrato alcune terre nel contadio di Bolise. L'attesa della scoperta, il fascino della ricostruzione, materializza il passato e lo rende pagina eterna. Un lavoro di ricerca che ha visto gli autori impegnati in vari archivi, dall'archivio parrocchiale di Ripapottoni, all'archivio diocesano di Larino, fino anche all'archivio di Stato di Napoli. Dal libro che sarà editato, tra non molto, usciranno delle notizie veramente straordinarie sulla famiglia Franconi. Sarà veramente gradita la lettura di questo libro, soprattutto per chi ama il Molise. Amare vuol dire anche conoscere, perché non c'è storia senza radici. Il Principi Francone nel contado di Molise, di Gabriella Paduano e Don Gabriele Tamiglia. Un'accurata ricostruzione storica e di archivio per comprendere meglio le nostre radici. Amare vuol dire anche conoscere, perché non c'è250. involvedig wzorce dell'aff 향io conoscere le corozie. Amare vuol dirent Bike è un problema, ci sono un problema delle notizie, Oltre anche conoscere! Buon� icononomi per la thickta ris